ok buongiorno a tutti eccoci qua vi faccio vedere onyx e green hippo via ndi molto semplice qua sono all'interno di dailos mentre dall'altro pc abbiamo praticamente green hippo che sta mandando il video via ndi a onyx che riceve e ovviamente lo manderà a capture 2023 che vi farà vedere che cosa succede allora prima di tutto vengo da questa parte qua aggancio il mouse un attimino scusatemi perché sto guardando attraverso il telefonino e invio il video quello che succede è praticamente sto utilizzando questo video qui ok quindi via rete passa ed ecco che cosa succede invece on stage quindi sta entrando in onyx che sta facendo tutto quello che io gli ho detto di fare quindi di ricevere ndi da green hippo ed ecco che lo stage sta funzionando mi allontano un po per farvi vedere un attimino che trigger o un altro video vediamo un attimino dove siamo eccoci qua qua sto per triggerare il secondo video in green hippo che è quello lì sta andando ed ecco che è cambiata la situazione cambiato il video ovviamente cambia anche l'effettistica all'interno giro questo che praticamente eccoci qua eccoci qua e vola e questo è dailos quindi green hippo manda il video vn di ai dai los lo riceve e ovviamente lo sto mandando su capture 2023 che mi sta facendo vedere cosa succederebbe in uno stage sto un po più lontanino trigger o un altro effetto questo è quello che succede on stage questo è quello che stanno andando green hippo questa è la q ed eccoci qua quindi in questo caso sto lavorando in green hippo con dei preset ed ecco qui quello che si ottiene come risultato vi auguro una buona giornata e buon divertimento ricordatevi questo è onyx l'ultima versione beta dove c'è ovviamente l'ndi residente e questa è comunque l'ultima versione di green hippo divertitevi e buona giornata a tutti quindi